Musica Oristano si è risvegliata stamattina con il dramma di Via Don Bosco. Un uomo di 62 anni, Paolo Murtas, barista oristanese, è stato trovato senza vita sulla strada. Dai primi accertamenti effettuati dai carabinieri del comando provinciale, è emerso che la morte sia stata causata dalla caduta dalla bicicletta mentre percorreva quella via. A seguito della caduta l'uomo avrebbe battuto la testa provocandosi una ferita mortale. Il coltello trovato vicino al cadavere era dello stesso Murtas che verosimilmente è uscito dalla tasca a seguito della caduta. Tuttavia sono in corso approfondimenti. In previsione delle prossime elezioni regionali, che probabilmente si svolgeranno la primavera prossima, sono avviate le manovre prima di tutto per la scelta del candidato presidente destinato a guidare l'accordata del centrodestra attuale coalizione al governo. La riconferma di Cristian Solinas verrà senz'altro riproposta dalla Lega e dal partito sardo d'azione al quale il presidente uscente appartiene, ma al momento nulla è dato per scontato. Vedremo il proseguo. Per ora c'è da rilevare che Fratelli d'Italia manifesta in Sardegna la volontà di andare avanti svolgendo nell'isola un ruolo di primo piano consono al risultato del voto conseguito nelle elezioni politiche. Alla Camera il partito della Meloni ha preso 278 mila voti, pari al 26%, mentre la Lega, che inglobava anche i sardisti, ha preso 43 mila voti e il 6% nelle regionali del 2019. i due partiti insieme erano saliti a quota 151 mila voti al 21,26%, 81 mila per la Lega, 70 mila per i sardisti, poi il crollo alle politiche con Lega e Pisdaz che perdono 108 mila voti e 15 punti in percentuale. Il Comitato SOS Sanità Barbagia Mandroulisai, sezione Samugheo, manifesta per la salvaguardia del diritto alla salute per difendere un territorio martoriato dove l'assistenza primaria e i medici di base sono ormai un ricordo, per difendere le strutture esistenti e chiedere che siano potenziate. Un manifesto di protesta e denuncia redato dagli organizzatori della manifestazione di protesta che si terrà venerdì 17 marzo. Il corteo, che attraverserà gli abitanti di Allai, Fordongianus, Villanova Truscheddu o Lastre Simacis, si dirigerà verso la sede dell'Inael di Oristano, per proseguire poi a piedi e manifestare sotto la sede provinciale della ASL in via Carducci. Negli ultimi decenni sia la politica che il mondo accademico si sono dimenticati dell'assistenza primaria, dell'importanza del rapporto di fiducia che lega il paziente al proprio medico di base, che lega una madre al pediatra che segue il proprio bambino. Servizi essenziali per la vita di tutti i giorni, ma drammaticamente scomparsi nei paesi dell'entroterra sardo. Parliamo di un problema dalle radici profonde e lontane, la cui causa principale è il totale disinteresse generale della classe politica nei confronti della sanità pubblica, e in particolare il tema della medicina territoriale, che vede nel medico di medicina generale il cardine portante del sistema. Lo stato di degrado in cui verso i cimiteri d'Uristano, Donigala, Silin, Uracini e Due Massama. Questo è l'oggetto dell'interpellanza presentata al sindaco e alla giunta dai consiglieri Efiso Sanna, Carla della Volpe, Francesca Marchi, Umberto Marcoli, Francesco Federico, Massimiano Daga, Maria Ubino e Giuseppe Ubino. Le erbacce invadono i viali, la terra mossa per dare corso agli interramenti non viene debitamente spianata, causando fossi e avvallamenti. Diverse fontanelle hanno funzionalità ridotta e altre ancora presentano un'estetica improponibile. Alcuni manufatti sono sfondati, numerose transenne sono state posizionate con carattere d'urgenza e ancora giacciono al loro posto, ormai da lunghissimo tempo. Sono ancora oggi presenti alcune scale vetuste e pericolose. Parte dei locali dei servizi igienici sono fatiscenti e altri locali sono utilizzati in maniera impropria. Gran parte delle zone destinate alle inumazioni versano in condizioni precarie. La parte più antica del cimitero San Pietro di Uristano possiede caratteristiche manufatti di grande interesse sotto il profilo storico, artistico e architettonico, che andrebbero rivalutate e meriterebbero una maggiore attenzione. I consiglieri interpellano dunque il sindaco per sapere chi detiene la responsabilità del decoro della polizia, della manutenzione e cura del verde dei cimiteri, quali prestazioni deve garantire l'Uristano Servizi, con quanto personale quali sono i costi per l'ente amministrativo. Cantiere quindi aperto prima dell'estate in piazza Manno e quanto trapela da Palazzo degli Scolopi e ai tempi dell'insediamento in quella sede dell'ordine religioso dei padri scolopi, XIII e XIV secolo, occorrerà riportare gli elementi essenziali di quella storica piazza di gran lunga, la più importante della oristano giudicale. Un intervento che non sarà una passeggiata, in quanto, oltre all'assetto complessivo dello spazio in termini di percorsi pedonali e del transito delle auto, saranno essenziali la salvaguardia dell'alberatura esistente, le strutture per la sosta per garantire la fruibilità degli spazi, gli interventi per la bonifica del sottosuolo nel tratto prima occupato dalle cisterne di carburante di una stazione di servizio. Queste a spanne larghe alcuni degli interventi che non sono propriamente quelli storiografici della piazza nella quale insiste il complesso penitenziario con addossate le mure dei locali attribuiti alla dimora dei giudici d'Arvorea. La storia impone anche di capire se è possibile mettere in luce i resti della cinta muraria della torre di San Filippo e della porta a mari demoliti agli inizi del secolo XIX. Un tocco dovrebbe anche coinvolgere gli edifici privati che insistono nella piazza, uno dei quali era il convento degli evangelisti, ora sede di una scuola pubblica. Il Consiglio Comunale di Oristano ha approvato all'unanimità l'aggiornamento del piano di gestione dei siti Natura 2000 della zona speciale di conservazione dello stagno di Santa Giusta. La delibera è illustrata in aula dall'assessore all'ambiente Maria Bonaria Zedda da mandato al Comune di Santa Giusta di trasmettere il piano alla Regione Sardegna per la valutazione della validità tecnico-scientifica e la procedura di approvazione, considerando che gli interventi non devono in alcun modo precludere le potenzialità di sviluppo delle iniziative produttive insediabili nell'area industriale. Il piano ha come obiettivo garantire la conservazione degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario favorendo attività economiche compatibili con le finalità di conservazione del sito. Con l'aggiornamento si fissono nuovi obiettivi e azioni da realizzare. Tra queste l'interramento delle linee elettriche aeree, il miglioramento della qualità delle acque fluviali e lagunari, riqualificazione ambientale e ripristino degli habitat, campagne di cattura e sterilizzazione dei cani e gatti randaggi, mappatura, classificazione e bonifica delle discariche illegali di rifiuti. Il Comune di Oristano ha messo in pagamento i contributi per l'attività ordinaria svolta dalle società sportive nell'annualità 2021 o nella stagione sportiva 2021-2022. Complessivamente sono stati erogati 30.000 euro a favore di 35 società e associazioni sportive dilettantistiche con sede a Oristano. Quest'anno abbiamo incrementato le risorse trasferite dalla Regione, portando il contributo complessivo a 30.000 euro, ha precisato l'assessore allo sport Antonio Franceschi. Per tutti si tratta di una preziosa boccata d'ossigeno utile a garantire l'attività ordinaria. La concessione del contributo era, tra le altre cose, subordinata alla presentazione di una relazione dettagliata sull'attività svolta, i risultati sportivi conseguiti nell'annualità o stagione di riferimento, con particolare riguardo alle attività del settore giovanile, l'indicazione del numero degli atleti iscritti che hanno effettivamente svolto attività in via continuativa e specificazione del numero degli atleti del settore giovanile. 9 agnellini tra i 7 e i 14 giorni di vita sono stati salvati dagli uomini della stazione forestale di Marruvio, a Mogoro. Gli animali erano legati e bloccati in località Puisteris, sono stati visitati dai veterinari della ASL e poi affidati ad un'azienda zootecnica del settore. Il corpo forestale ha avviato le indagini per risalire a chi li ha abbandonati. Dagli accertamenti finora svolti appare chiaro che si tratta di un abbandono di animali provenienti da un elevamento di ovini, con l'aggravante del maltrattamento dovuto all'uso di tecniche cruente. Giovedì 16 marzo i tecnici di Abanoa effettueranno un intervento di manutenzione nel potabilizzatore di Silì, che alimenta il distretto idrico di Pesavia e Torre Grande nel comune di Oristano, i comuni di Santa Giuste di Cabras, comprese le località marine di San Giovanni e Isaruttas. I lavori saranno eseguiti tra le 15.30 e le 17.00. Durante questa fascia oraria l'erogazione all'utenza sarà garantita dalle scorte accumulate nei serbatoi comunali. Potrebbero verificarsi nel tardo pomeriggio dei cali di pressione in rete, che saranno superati al riavvio dell'alimentazione del potabilizzatore. Quattro appuntamenti, uno al mese per quattro mesi, per raccontare un pezzo della storia di Oristano attraverso le carte ad archivio e Archivo in Primavera, iniziativa a cura dell'Assessorato alla Cultura della Fondazione Oristano e dell'Archivio Storico Comunale, che dal 21 marzo al 9 giugno offrirà quattro eventi dedicati a fatti o personaggi che caratterizzano la storia della città. Racconteremo diverse storie che ci aiuteranno a conoscere meglio la storia di Oristano e lo faremo attraverso le prezose carte del nostro archivio civico che conferma di essere uno straordinario scrigno di storia e di cultura, dice il sindaco Massimiliano Sanna.